Giuliano per questo tiro il primo di Valente, il secondo che riordina il gioco a centrocampo, il suo passaggio in avanti è stato preso da Savoldi, Savoldi gioca piuttosto arretrato verso Graziani che termina a terra, mentre il Napoli prima con Savoldi, poi con Giuliano viene in avanti, colpo di testa è stato di Mozzini che sta continuando la bella prova di Londra, Savoldi questa volta sfugge a Mozzini e serve Capone, il passaggio indietro però a Pin, ecco ancora Savoldi che viene in avanti, ancora Pin, l'ha battuto Giuliano, ancora passaggio indietro di Capone, Giuliano al volo Savoldi, chiama in avanti Pin, Mattolini sul rinvio, hanno mancato la palla, Mozzini e Savoldi, Restelli, Savoldi, deviazione di Patrizio Sa e adesso con Giuliano, il Napoli a Spingiano, apertura per Savoldi che vediamo finalmente in posizione offensiva, Savoldi, Restelli.